Coppa Davis Ben ritrovati a tutti in questo nuovo episodio. Vediamo insieme la situazione dei gironi. Partita di oggi Ci colleghiamo adesso con lo stadio per la diretta della partita. Grazie a tutti. 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 30, 15. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 30, 40. Advantaggi. 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 Voi! 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 1540 1540 3040 Ok. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. , grazie a tutti. 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 14, 15 Vote! 14, 15 Arrivederci al prossimo episodio!